Cari amici, continuiamo con la nostra informazione. Cina, dopo Evergrande, un altro immobiliarista non rimborsa i bondi. Dopo il caso Evergrande, un altro immobiliarista. Poi riprendiamo la pagina, ma la notizia ve l'ho già data. Vi avevo parlato di alcuni gruppi che hanno una situazione simile a Evergrande. Vi avevo parlato di immobiliaristi anche medi e piccoli per lo standard cinese che hanno problemi. E qui invece stiamo parlando del Fantasia Holding Group, che rischia di aprire una nuova crisi. Fantasia Holding Group era un nome di una società che non abbiamo ancora fatto. E vedete che goccia dopo goccia i numeri sembrano aumentare, le società coinvolte sembrano aumentare, la falla sembra più grande di quanto si dicesse in un primo tempo. E quindi in grado di avere più conseguenze, conseguenze maggiori, un impatto maggiore. Del resto non sarebbe la prima volta che il sistema cerca di nascondere le reali dimensioni di una qualche problematica che è irrisolvibile o difficilmente risolvibile. Vi invito a iscrivervi al mio canale e a mettere il like se vi piacciono i contenuti proposti. Grazie per l'attenzione e alla prossima videopillolina. Grazie per l'attenzione e alla prossima videota.